in questo gioco non dobbiamo farci corrompere dei mostri e praticamente non dobbiamo farci corrompere altrimenti potremmo morire e dovremmo poi noi corrompere gli altri continuo così in questo modo ah giusto questo non è no quello è normale oddio c'è condizioni guarda ce n'è un infettato lo stai ancora rompendo oh mio dio no l'ho fatto fuori ce ne sono un po' infettati qua ah mi ha preso Sbri aiutami non farti corrompere ok guarda è tutto glitchato oh no no lo distruggiamo questo qua che mi ha preso prima ahia mi ha preso oh grazie mille ok ucciso ok molto bene molto bene andiamo a fare fuori il resto dei corrotti vieni oh sciapolette si andiamo oggi Zoe che poi Sbri vedo che ci sono persone con le pistole con si perché ovviamente poi le voglio fare io vuoi comprare anche le cose oddio guarda no cosa sono facendo aiuto Zoe mi ha preso mi ha preso oh si è Zoe Zoe mi sto portando si bravissima no Zoe è diventata corrotta devo prenderla è glitchata aiuta 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 no Zoe sono uno di quelli mi dispiace oh no 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 strida oh oh ci hanno rotto Zoe oh no oh ammazza questo ammazza questo guarda 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 come scappa guarda come scappa vieni qua pezzo di cacca mannaggia no se niente non mi riesco a prenderlo più eh cavolo guarda guarda la mia faccia Zoe oh mio dio la mia faccia ragazzi sono corrotto oh mio dio sto picchiando un tizio si lasciamelo prendere vado col pantello muori corrompiamoli tutti oh pure lui pure lui no 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 cavolo è scappato dobbiamo prenderlo dai andiamo a sprint attenta perché lì stanno tutti quelli che sono nuovi e quindi che oh prendo questo qua da dietro l'ho preso vai vai uccidilo velo 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 fuori lo corrompo aia aia no 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 ok guarda loro sono velocissimi a picchiarci noi siamo proprio violenti però dai l'ho fatto fuori con tipo un hp let's go ok ora siamo diventati però il re quello che non dovevamo essere Zoe e vabbè ormai siamo effettati si sa aia oddio sto per cremarci aia ho un hp Zoe un hp come dovrei tipo aspetta questa è questa cosa ah queste sono le facce che posso usare belle ok 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 questo è figo sto per morire come stai per morire eh io pure ma come si incenera la vita non lo so grazie penso col tempo vieni 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 no cavolo cavolo vatelo fuori vatelo fuori no no vuol dire che era morto è vero vediamo faccio play si non sono neanche più io corrotto ok questa volta dobbiamo provare a dire ah puoi prendere una mazza qua è vero oddio questa cosa non lo sapevo cavolo quindi ci sono item shop ok perfetto oh guarda andiamo a vedere gli item vediamo cosa c'è allora uh ecco la k 1500 glitch bits mentre la pistola costa 1000 glitch bits chissà come si divenne come si ma forse uccidendo i glitch noi ne abbiamo 500 eh si infatti ma quindi non abbiamo praticamente acquisiti noi andando avanti forse dipende quanto li uccidiamo eh penso di si secondo me il tizio non vuole proprio uscire da lì no 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 sì mi sono fatto corrompere per sbaglio sono salito sopra quella macchia di glitch aiuto ma pure io ma che mannaggia no eh sì Zoe non dobbiamo toccare le macchie di glitch no no non dobbiamo toccare le macchie di glitch altrimenti eh l'ho capito ma mi hanno colpito cioè mi hanno spinta ti hanno spinta oddio guarda 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 questo questo qua sì l'ho capito io non ci sta più capendo niente però non ho capito come si che funziona i glitch bits qua non è che dobbiamo andarli a cercare per la mappa no penso riprendiamo man mano e come però 500 glitch bits eh non lo so secondo me che i glitch bits Zoe bisogna acquistarli necessariamente lo sai dici eh sì secondo me sì ad esempio adesso mi compro mille glitch bits e mi va posso andare a prendere in teoria la pistola ma ovviamente ora non posso usarla perchè tanto sono un glitch però al momento credo che ho capito almeno come funziona eh va bene ok bene allora ok siamo diventati tutti quanti glitchati aspetta cos'è quel posto eh no survivor solo oddio possiamo entrare qua dentro wow glitch mart ah abbiamo pure ah me lo ci sa Zoe ma abbiamo anche eh il supermercato delle cose glitchate infatti qua c'è una spada con mille glitch allora mi prendo questo oddio com'è che ho ricevuto duemila glitch io ne ho mille adesso no no mi pare che è giusto appunto come cacchio forse restando qua dentro pian pianino diventiamo glitchati vabbè comunque non importa dove sta lo shop delle cose glitchate eh sta tipo di sotto nella stradetta bianca eh intanto io voglio vedere oh vediamo vediamo cosa quanto danno faccio aia aia che male ma dov'è la stradetta bianca facciamolo fuori facciamolo fuori no dove scappi si si ah ah l'ho glitchato ah 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 mamma mia che stava scappando non trovo la stradetta bianca che dici ah come la stradetta bianca scusa sta in mezzo alla mappa come fai a non vederla ok aspetta ah ma devi andare fuori ovviamente mica ne sta dentro la parte di survival ma io non l'ho capito guarda sta lì sta lì lì vedi ok ah ma quello non ha scrivito il letto glitchato cioè noi dobbiamo distruggerlo ah sì ah figata cosa accade però se lo facciamo fuori questo tizio eh però io non riesco a farlo fuori aiuto mi sono in secondo tre tizi glitchati eh sì e io non riesco a capire cosa devo fare con quel coso comunque guarda l'ho ucciso no no aia che mi hanno fatto fuori muori ti glitcho tutto ti glitcho no non mi scappare mannaggia non ho scappato aia oh no mi ha ammazzato ok ora ho i mille che posso usare magari per comprare la pistola nella parte di survival ok vediamo un attimo allora comunque non lo sto trovando sto coso delle cose grisciate ma sei scema ma vero ma c'è scritto glitch mart Zoe ma dove devi entrare all'interno della stradetta devi andare nella stradetta bianca ma dove cacchio che sei ma mica devi sta qua vieni guarda di andare nella stradetta bianca vieni vieni dove sta parte e poi a destra vedi che c'è una porta che c'è scritto no ecco ecco fuori ah no vabbè dopo e poi devi essere glitchata scema eh ho capito ti sei glitchata mentre sei entrata lì dentro eh si per forza mi sta facendo è molto più facile adesso con questa spada e pure con la pistola ormai ecco fatto ole ok mamma mia di giuro ci sono un botto di versare che il cliccate che mi seguivano aspetta no no devo ricaricare a non ho più proiettili e quindi che significa che devo ricomprarla dai ma che scato lei non ho capito ancora come cacchio mi faccio i soldi qua penso devi resistere di più da persona normale ragione aspetta vediamo un attimo qua sopra però io li ho acquisiti mentre ero glicciato ok cacchio ok saliamo qua sopra vediamo cosa trovo qua di cosa c'è questo coso la luce buono non capisco a dare come se la traiarda lei proprio con i tasti che cosi del mamma ma perché ma come faccio a liberarmi ma fa un maglio non puoi liberare ok ma io non mi liberavo oddio mi ha fatto fuori un botto di glicciati ma mi ha buttato dentro a le persone prende ti grabbano e ti buttano nell'acqua eh sì effettivamente ha senso è un metodo più facile sì eh sì un tizio ci è andato da solo a posto aspetta dobbiamo prenderle le persone ok lì è entrato vediamo 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 oddio lo sto facendo tutti siamo tutti glicciati ma dove hai fatto una carne vicina siamo tutti glicciati stata eh madonna adesso dobbiamo andare a mettere altre persone in galera prendilo prendilo lo sto scappando eh no niente scappato eh ora 500 eh sì anche tu hai 500 adesso sì eh allora mi sa che proprio a tempo dopo un tot allora diventiamo insomma quello che siamo insomma eh sì mi sa che funziona così per forza oh ok adesso me lo butto dentro la parte glicciata dai 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 no sì sì mi sono riuscito sì l'ho glicciato ah 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 oh mamma mia è divertentissimo quando gliccio le persone ok aspetta lui vuole entrarsene non potete entrare scemi ma siete scemi ah che stupidi sì 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 tu vieni qua ah 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 insomma ti giuro è arrivato con il kalashnikov tutto quanto impostato io lo prendo in due secondi sì sì va bene tieni e lo butto nell'acqua la glicciata che ridere Gesù oh mamma mia ok va bene bene ragazzi mi raccomando se questo video vi è piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale guardate questi altri video che sono appena comparsi e noi ci becchiamo ciao ciao ciao